Buongiorno, bentrovati, buon venerdì 18 giugno, memoria nel ritamborziano di San Romualdo. Ecco il Vangelo di oggi, lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù, alzati gli occhi verso i Suoi discepoli, diceva Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata in grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore Sono parole bellissime quelle di Gesù. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. La misura della perfezione è questa, la misericordia. Dare il cuore ai miseri, quindi avere un cuore che trabocca della tenerezza e dell'amore di Dio. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Gesù, che è trasparenza perfetta del Padre, ha vissuto la misericordia. Ecco il suo sguardo misericordioso verso Zaccheo, verso la peccatrice, verso il buon ladrone. Gesù invita anche noi ad avere lo stesso sguardo. Le altre parole ci spiegano cosa vuol dire essere misericordiosi. Dice Non giudicate, non sarete giudicati. Non condannate, non sarete condannati. Com'è facile per non giudicare gli altri. Com'è facile per noi avere un cuore duro e condannare gli altri. Eppure Gesù dice Non fatelo. Date. Quante volte preferiamo prendere piuttosto che dare. Date e vi sarà dato. Con abbondanza, questa misura buona, pigia, pigiata, colma e traboccante, questa è la misura del dono di Dio, che non sta lì a fare i conti, ma esagera nei suoi doni. Chiediamo la grazia di essere anche noi persone che sanno dare così, con un cuore buono e misericordioso, per essere figli veri del Padre che è nei Cieli. E preghiamo gli uni per gli altri, affidandoci alla sua misericordia. Imitiamo il cuore di Gesù, che è così generoso nel donare. Facciamo che anche il nostro cuore sia così colmo di amore e di misericordia. Maria, nella sua perfetta imitazione del Figlio, nella sua materna misericordia, ci guida. Preghiamo gli uni per gli altri. Sialo dato Gesù Cristo.